Leo. Leo si preparò psicologicamente al cambio di look. Tirò fuori una manciata di mentine e un paio di occhiali da saldatore dalla cintura degli attrezzi. Non erano esattamente occhiali da sole, ma doveva farseli bastare. Si arrotolò le maniche della camicia, usò un po' di olio per motori come brillantina, si infilò una chiave inglese nella tasca posteriore di pantaloni, anche se non avrebbe saputo dire il perché, e chiese a Hazel di disegnargli un tatuaggio sui bicipiti con il pennarello, la parola figaccione, con un teschio e due tibie incrociate. Si può sapere che accidenti pensi di fare? Hazel sembrava piuttosto turbata. Cerco di non pensare, ammise Leo. Non mi aiuta quando devo fare lo scemo. Tu concentrati sullo spostamento di quel bronzo celeste. Ecco, sei pronta? Pronta, confermò la ninfa. Leo trasse un respiro profondo e si diresse impettito verso lo stagno, sperando di avere un'aria spavalda e di non sembrare piuttosto uno affetto da qualche disturbo psichiatrico. Leo è il più fico, gridò. Leo è il più fico, gridò Ecco a sua volta. Yeah, baby, guardate che roba! Guardate che roba, ripete Ecco. Fate largo al re! Largo al re! Narciso è uno sfigato! È uno sfigato! Colte di sorpresa, le ninfe accalcate si dispersero un poco. Leo le scacciò con la mano, come se lo stessero seccando. Niente autografi, ragazze. So che vorreste passare un po' di tempo con Leo, ma sono troppo, troppo fico. Restate pure a ronzare intorno a quell'imbranato di Narciso. Che sfigato! Sfigato, ripete Ecco con entusiasmo. Le ninfe borbottarono arrabbiate. Ma che cavolo dici? Domandò una. Sfigato sarai tu, esclamò un'altra. Leo si aggiustò gli occhialoni e sorrise. Piegò i bicipiti, anche se non aveva molto da piegare, e sfoggiò il tatuaggio. Narciso aveva ottenuto l'attenzione delle ninfe, se non altro perché erano stupite. Ma Narciso se ne stava ancora impalato davanti al proprio riflesso. «Volete sapere quanto è brutto Narciso?» chiese alla folla. Narciso è talmente brutto che quando è nato, sua madre l'ha scambiato per un centauro al rovescio, uno con le chiappe di un cavallo al posto della faccia. Le ninfe trassalirono. Narciso aggrottò la fronte, come se avesse la vaga sensazione di una mosca fastidiosa che gli ronzava intorno alla testa. «Sapete perché il suo arco ha le ragnatele?» continuò Leo. «Perché lo usa per cercarsi una ragazza, ma non è riuscito a colpirne neanche una!» Una delle ninfe rise. Le altre la zittirono subito a colpetti di gomito. Narciso si voltò accigliato verso Leo. «E tu chi saresti?» «Io? Io sono il super figaccione dell'ax, amico!» rispose Leo. «Sono Leo Valdés, il bel tenebroso all'ennesima potenza! E nessuna sa resistere al fascino del bel tenebroso!» «Bel tenebroso!» ripetè Eco con un gridolino convincente. Leo tirò fuori una penna e autografò il braccio di una ninfa. «Narciso non vale un accidenti! È un tale imbranato che in palestra non riesce a sollevare neanche una piuma! È così sfigato che se cerchi la parola sfigato su Wikipedia ti compare la sua foto! Solo che la foto è così brutta che nessuno la vuole guardare!» Narciso grottò le belle sopracciglia. Il suo viso stava perdendo la sfumatura dorata per passare al rosa salmone. Per un attimo si dimenticò completamente dello stagno. «Ma che dici? Io sono incredibile, lo sanno tutti!» «Incredibile per quanto fai schifo!» ribatte Leo mentre vedeva la lastra di bronzo affondare nella sabbia. «Se io facessi schifo quanto te mi affogherei!» «Oh, aspetta! Tu l'hai già fatto!» Un'altra ninfa ridacchiò, poi un'altra ancora. Narciso ringhiò, senza per questo perdere neppure un briciolo della propria bellezza. Intanto il figlio di Efesto sorrideva e ammiccava più non posso da dietro gli occhialoni, allargando le braccia e incitando il pubblico a un applauso. «Brave, così!» esclamò. «Forza, Leo!» «Forza, Leo!» gridò Echo. Si era mescolata alla folla di ninfe e siccome era così difficile da individuare, le altre pensarono che la voce venisse da una di loro. «Oh, di rimando!» «In effetti è simpatico», azzardò una ninfa. «È carino, anche se un po' smilzo», disse un'altra. «Smilzo?» ripete Leo. «Baby, il concetto di smilzo l'ho inventato io! Lo smilzo è il nuovo super sexy! E io sono lo smilzo fatto persona!» Narciso, invece, è così sfigato che non l'hanno voluto neppure negli inferi. Non scuciva un appuntamento nemmeno alle ragazze fantasma! «Ah!» esclamò una ninfa. «Ah!» ripete Echo. «Basta!» Narciso si alzò. «Non è giusto! È evidente che costui non è per niente, Fico, perciò...» Faticò a trovare le parole giuste. Probabilmente era da molto tempo che non parlava di qualcosa di diverso da sé. «Ci sta imbrogliando!» Dunque non era completamente stupido. Il suo viso si schiarì per l'illuminazione improvvisa. Si voltò verso lo stagno. «Lo specchio di bronzo non c'è più! Ridammi il mio riflesso!» «Porza, Leo!» gridò una delle ninfe con la sua vocina acuta, ma le altre tornarono a concentrarsi su Narciso. «Sono io il più bello!» stava insistendo lui, e minacciò «Se non mi aiutate a recuperare il mio specchio, me ne andrò!» Le ragazze trassalirono. Una indicò «Laggiù!» Eisel era in cima al cratere, e correva più forte che poteva con la grande lastra di bronzo sulle spalle. «Riprendiamolo!» gridò una ninfa. Suo malgrado, ecco, borbottò «Riprendiamolo!» «Sì!» Narciso sciolse l'arco e sfilò una freccia dalla faretra polverosa. «La prima che metterà le mani su quel bronzo...» «Lamerò quasi quanto me!» «Forse potrei perfino baciarla, dopo aver baciato il mio riflesso!» «Oh miei dei!» strillarono le ninfe. «E uccidete quei semi dei!» aggiunse Narciso, fulminando Leo con un'occhiata dei bellissimi occhi. «Non sono per niente affascinanti quanto me!» Leo sapeva correre piuttosto bene, se inseguito da qualcuno che voleva ucciderlo. Purtroppo aveva avuto modo di allenarsi molto. Raggiunse Hazel, e non gli fu molto difficile, considerato che lei era gravata da più di 20 chili di bronzo celeste. Afferrò un lato della lastra e lanciò un'occhiata dietro. Narciso stava incoccando una freccia, ma era così vecchia e fragile che gli si spezzò in mano. «Ai! La mia manicure!» Di solito le ninfe erano veloci, almeno al campo mezzosangue, ma quelle dello stagno erano cariche di poster, magliette e gadget del fan club di Narciso. E poi non erano molto brave nel lavoro di squadra. Continuavano a inciampare l'una sull'altra, a spingersi e a scansarsi a vicenda in malo modo. Ecco, peggiorava le cose correndo in mezzo a loro, placando e spintonando a più non posso. Nonostante tutto, però, erano sempre più vicine. «Chiama Arion!» disse Leo col fiato grosso. «Già fatto!» replicò Hazel. Quando arrivarono sul bagnasciuga, videro l'argodù in lontananza, ma era impossibile da raggiungere. Anche se non avessero avuto il peso del bronzo, era troppo lontana perché potesse essere raggiunta a nuoto. Leo si voltò. La folla stava avalicando le dune, con Narciso in testa, che impugnava l'arco come la bacchetta di un direttore della banda comunale. Le ninfe si erano organizzate con una serie di armi assortite. quelle di roccia stringevano sassi, quelle di foresta grossi rami. Alcune ninfe di stagno avevano pistole ad acqua, che non facevano molta paura, ma avevano lo stesso uno sguardo assassino. «Oh cavolo!» borbottò Leo, evocando il fuoco con la mano libera. «Gli scontri diretti non fanno per me! Tu prendi il bronzo celeste!» Hazel estrasse la spada. «Stai dietro di me! stai dietro di me!» ripetè Ecco. Aveva superato la folla ed era corsa a mettersi di fronte a Leo, allargando le braccia come per fargli da scudo. Ecco, Leo non riusciva quasi a parlare per il gruppo che gli era salito in gola. «Sei davvero una ninfa coraggiosa!» «Una ninfa coraggiosa!» «Sono fiero di averti nella mia squadra!» continuò Leo. «Se usciamo vivi di qui, dovresti dimenticare Narciso!» «Dimenticare Narciso?» Ecco, sembrava incerta. «Decisamente, non è alla tua altezza!» Le ninfe li attorniarono in un semicerchio. «Impostori!» esclamò Narciso. «Loro non mi amano, ragazze! E voi invece mi amate come io amo me, vero?» «Sì!» strillarono tutte, tranne una ninfa vestita di giallo che squittì. «Forza, Leo!» «Uccideteli!» ordinò Narciso. Le ninfe si lanciarono all'attacco, ma la sabbia di fronte a loro esplose. Arion sbucò fuori dal nulla e prese a correre in cerchio intorno alla folla così in fretta da creare una tempesta di sabbia inondando le ninfe di calce fino agli occhi. «Adoro quel cavallo!» esclamò Leo. Le ninfe crollarono a terra, tossendo a più non posso. Narciso brancolava alla cieca, sventolando l'arco come per colpire una pentolaccia. Hazel saltò in sella, caricò il bronzo e porse una mano a Leo. «Non possiamo abbandonare Eco!» protestò il figlio di Efesto. «Abandonare Eco!» ripetè la ninfa sorridendo. Per la prima volta Leo riuscì a vederla chiaramente in viso. Era davvero carina. I suoi occhi erano più azzurri di quanto si fosse reso conto. Come aveva fatto a non notarlo? «Perché?» chiese. «Non penserei ancora di poter salvare Narciso?» «Salvare Narciso?» rispose lei in tono convinto. Anche se era soltanto un Eco, Leo capì che ci credeva veramente. Le era stata data una seconda possibilità di vita e lei era decisa a usarla per salvare il ragazzo che amava, anche se lui era un bellissimo, idiota senza speranza. Leo stava per obiettare, ma Eco gli si avvicinò e lo baciò su una guancia, quindi lo scostò con dolcezza. «Leo, muoviti!» chiamò Hazel. Le altre ninfe stavano cominciando a riprendersi. Si strofinarono via la sabbia dagli occhi, che adesso erano rossi e accesi di rabbia. Leo guardò di nuovo Eco, ma lei si era dissolta nel paesaggio. «Sì», disse con la gola secca. «A sì, va bene», e salì dietro Hazel. Arion decollò sul pelo dell'acqua, con le ninfe che urlavano alle loro spalle, e Narciso che gridava «Ridatemi la mia immagine! Ridatemela!» Mentre Arion sfrecciava verso Largo 2, Leo ripensò alle parole di Nemesis su Eco e Narciso. «Forse vi insegneranno una lezione!» Sulle prime aveva immaginato che si riferisse a Narciso, ma in quel momento si chiese se la vera lezione non fosse quella di Eco, invisibile ai propri simili, condannata ad amare qualcuno, a cui non importava di lei. «Una settima ruota», si disse. Poi cercò di scacciare quel pensiero. Si aggrappò alla lastra di bronzo come a uno scudo. Era deciso a non dimenticare mai il viso della ninfa. Eco si meritava che almeno una persona l'avesse vista e avesse capito il suo valore. Leo chiuse gli occhi, ma il ricordo del sorriso di Eco stava già scomparendo.